Sono qua! Mangi le mie di San Martino! Tutti i due! Perché prendiamo il vino? Sono i tre velocini! No, non ti riuscire! Buon su! Ci sono amica amica! Mamma mia, è bello! Ma che non è che mi arrivi qua? Non ti dico mangiare! È già lì! È lì che avevi preso a lui, già noi non ci darei! È solo che ha preso il papà! Non ci serve! È buono! Mi sento un caraccio! Oh, che sa? Ci fai da i miei! Ma che si è facciata? Cos'è ne è vincuato? Non c'è la manca di un paese! Non c'è la manca di un paese! Non c'è la manca di un paese! Non c'è la manca! Non c'è la manca! Non c'è la manca! Ma non c'è la manca! documenta di un paese! Non c'è la manca! Ma non c'è la manca di un paese! Non c'è il paese! E' il paese! È peccato! Mi sento da un paese! Non c'è la manca! Non c'è la manca! Non è che la manca! Fai vedere la cosa tua come va La cosa tua come va Ma la cosa tua come va La cosa mi dice Oh Maria è troppo grossa la fai La tengo pure più grossa Ma nessuno ha fatto la mia letta giù Non ci pensavo Oh ma tu che li ho pensieri tui Gigi sono che quattro manca riesce E tu non fai le montagne No non fai male Non fai male Non fai male Si ma però voglio dire Ma la ricetta può essere pure la ricetta Però tu ci danni sempre qualche cosa Si ma voglio dire Può non andare là Che la signora può riuscire Come ha detto Ma può riuscire da ora Ma che tu dici Ma se uno del lavoro E si ricorda tutti gli ingredienti che ha messo E' il modo giusto Perché non ha riproporizzato Lui già la pasticceria non le farà mai Perché ci vanno troppo tempo Ci vanno troppa fatica E loro scusami E costano un sacco di soldi No non ci vanno Ci vanno troppo tempo Perché tutti si scafano forza a mano E nella pasticceria che le conviene I pasticceri a mano Però aspetta un momento Quello che dico io Io pasticceri Tengo una mezz'ora di tempo E faccio un momento E quando la faccio mangiare a vendere Io vengo un euro a cibo Per tutta la mia fatica che ci metto E' il pesca E' il pesca E' il pesca Ma la cosa importante è un pane Non ma sono tosto Che lo fanno cattano Ma come lo fanno sempre tosto E' un altro gusto E' un altro gusto Io quando gli fatti metto un cremone E' un bicarbonato Non ci metto la cibo Non lo vengono Ma non lo trovo più Cioè non lo vengono in farmacia Cioè non lo vengono in farmacia Cioè non l'amorica Cioè non lo vengono in farmacia E' un cremonico Si si registro Si registro E' l'alberto tra una o no Eh però trasmette i cuori carini E' più buono Ma non lo vengono E' più buono Ma io vengo la differenza Quando i fatti metto un bambino E' un bambino Tu fai una cosa, allora lavenne tutti una manica, si sbagliano tutti qua, si, però con una lingua, Anna, per televisione facendo le pesche, però non le fanno con la voce, fanno il dischetto normale che si gonfia, poi quando rimettono nel bagno acqua e zucchero, premono con il bicarbonato, questi li fanno con i bicarbonati, questi li fanno con i bicarbonati, come anche le bicarbonati, ma anche le fanno con i bicarbonati, come tutti i bicarbonati, anche le farmaciche, a noi non c'è a noi non c'è a noi c'è una ragazza due volte salutando un ammari a ciò che non c'è a noi non c'è non c'è la ricavatoria ma io ando dopo pranzo e capite a noi non c'è una ragazza due volte salutando un ammari e a ciò che non c'è non c'è non c'è un momento di scappato il suo gabriel è il mio giocatore è il mio giocatore dai non c'è un'altra tu sai quando 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 c'è un song quando fai la piste dopo il lavoro le storie di tre e mezzo tre e quattro vabbè ma può finire pure la casa tu chiamaci un biste questo non fai 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 e se c'è la città e me la provate al momento se io la buccia e beh ma che la mamma fai insieme a me e facci musica io che personalmente un lavoro che faccio questo io e non beco perché vanno trovando troppe pietre i 15 e vuole un brilotte e vuole un'olata di produzione ma non la discadenza e dove non fai e dove non fai cioè non è che i prodotti lo fai uno è un prodotto artigianale uno si mette a fare una cosa che lui non può fare così lui non può commercializzare sono d'accordo eh però se uno riesce a inserire i prodotti che stucca ci può fare niente è una bella cosa di solito ma c'è l'industriale è una cosa eh perché lo fai solo tu lo fai solo tu lo portano il bar e vedi che i clienti quando vanno al bar a trovare una cosa insomma per esempio tutti i bar però l'unico bar che io tra la pasta ce ne stanno 5.000 l'unico bar che io ero il bar 30 ah il bar 30 perché faceva la girella o la tarina oppure faceva la nese e delle volte tu trovavi tu avevo pasticcina bello frisco bello frisco bello frisco prima mattina e comunque a parte che tu lo pagavi 60 centesimi l'altro lo vendero un euro o un euro e venti però tu lo trovavi hai capito? un danese un euro e venti ah no no un pasticcino un pasticcino un pasticcino perché altri bar comunque io per l'euro un euro io per l'euro un euro io per l'euro un euro eh ti devo dire la verità io non ci sto andando qui perché si mangiava un nese e chi ha questo? perché i veri cornetti i veri cornetti tanti anni fa li faceva il bar medici a Via Pesca a Coppola per cui sia c'è che mangia una cosa c'è è tu è tu ma che era fastidio? ma che la macchina dà fastidio o la macchina mia? è una nuova ma perché andava? andava andava a in un veloce e capito se vuoi dire che c'era la macchina e la macchina è la stessa cosa scusa quando vieni con qualcuno dei cornetti andava e la macchina ma non so come a stessa cosa ma non so come la sera è pronta e poi la mattina non so come a stessa cosa faccia prima mattina e la mattina e la cucina e la cucina e la cucina prepari un dolce lo devo prendere no 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 è riuscito a calciare con una straordinaria potenza e ballare con il testo ma tutto stupendo no ha il campino 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 il campino ha il campino arriva e allora non ha fotografica e come si fa come si fa la saluta ma questo è il tuo deputatengela no bravo auguri grazie si, mi sono venuto è venuto la cava d'acqua è sovrapposa stia riposare non sono riuscita nos stai ancora con tutti i figli e ti chiedi come hai fatto come hai fatto? che cosa? io li sto ma che ti chiedi? non ti chiedi più 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 si buttano ehi, sparagni, sparagni ehi, come stanno? oh, la è l'artimale, che vanno a vivere che cazzo metteremo 5, 1 e metteremo 6 a piscine oi, sapete una cosa? che la fintra amica e non muove e te la raggi come sei mannaggia, te la raggi e poi metteremo il pappello e metteremo qua la nonna a sire e che c'è nonna a sire? e non a sire e non a sire e non a sire e non a sire no, ma sai che è questione di essere fortunato no, no, che non è sesta ma è questione di fortunato e non è un figlio mio e allora io è un figlio mio, è fortunato hai una cosa aspetta la mia è un figlio mio io ho fortunato faccia il nome di piatto stanno lì vai Non c'è proprio niente Mamma mia veramente, è che? Ma non è che hai fatto niente? È che? Ma quanto diamo il mio compagno? Ah, pariccio, pariccio Dà questa torta, ci sono poche di cotto l'acqua Si deve chiedere un bacana, pariccio Adesso ci sono umani Sto ben giocando al bologco Non ci mangiare la marina 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 Sì, è di mangiare il fuoco Mi sono domani la marina Prossimazione, d'obbiettumano il tuo son Va bene Io mi abbandono Io metteria, con me dice no lo faccio? lo faccio? come fai? si bello, guarda come fai a parte ci fa malaga il semino eh ciao 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 e non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio ciao ciao nino non ti scordi che ci stai portando a faticare ben di cattu ma non lo faccio ma mia non mi si può fare per riuscire a portare al tiglio ma mi si può rilassare è non mi si può rilassare 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 che deve fare per riuscire che deve essere non ci stiamo rilassare che non mi si può rilassare non mi si può rilassare all'inizio di questo che cosa ci stai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.